Bentornati in questo Tans Life, questa sera suoniamo alla discoteca... suono perché ho detto suoniamo... beh vabbè ci sono anche loro ovviamente discoteca colibri cuneo siamo in partenza io ho ritirato fuori la mia pecora ti piace? perché pare... beh intanto andiamo... pare c'è la mia amica Elena Saretti mi ha detto che era nevicato comunque questa settimana ha piovuto praticamente sempre e per terra è tutto umido ovviamente come tutti i live che si rispettino prima cosa caffè da Roby ciao buonasera Elena mi volete prendere un caffè? mamma mia che tocco ciao Roby no 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 dai ci prendo caffè mi hai ragione ti raccomando a Bertone hai ragione ma ti devo correggere le tazze ah ormai sto perdendo colpi ragazzi in realtà a vedere se ero attento bene possiamo partire per il colibri siamo partiti con la portiera aperta non è colpa mia chi l'ha lasciata aperta e siamo allora ultimamente non stiamo più facendo le gallerie quelle praticamente io vivo tipo vicino al lago ok e ci sono due strade che connettono la viabilità verso autostrada città insomma eccetera eccetera una lungo lago quella che stiamo facendo adesso che è un po' dissestata però un paesaggio meraviglioso che non penso riusciate a vedere però è bellissimo e poi c'è una tangenziale mega che fa tutte le gallerie e praticamente ti connette prima però è una tangenziale che è un po una rogna e nel senso che ci sono sempre incidenti un po un po pericolosa quindi ultimamente stiamo optando per prendere sempre il lungo lago partendo un po prima ovviamente perché a parte che anche più bella da vedere anche se il lago di Iseo un po di solito lo tengono molto scuro perché cercano di preservare un po gli animali della zona eccetera eccetera quindi non puntano le luci come magari può essere sul lago di Garda in alcuni punti eccetera e niente quindi stiamo facendo questa strada che è un po adossi però la stiamo preferendo vero carlo si buona estate ancora più bella si d'estate è bellissimo qui e altra cosa mi fa un po male il braccio ma così forse ci va meglio altra cosa sabato prossimo siamo al mirror per il secondo appuntamento con la spazio nella dance e stiamo un po selezionando i dischi il gatto nene nene stiamo selezionando i dischi perché sarà una serata totalmente in vinile quindi io sono super eccitata per questa cosa perché sapete mi piace adoro lavorare in vinile anche in vinile e stiamo facendo dei sondaggi su instagram dove carletto sta perdendo tutte perché tutte quelle che vota lui perdono rigorosamente tutte tutte e quindi stiamo facendo un po questo sondaggio proprio per far partecipare tutti anche le persone che magari non possono venire perché mi seguono da lontano eccetera eccetera almeno così in modo per coinvolgere per farvi vivere un po quello che è il nostro viaggio all'interno della musica che si chiama appunto a spazio nella dance abbiamo avuto un po di problemi questa settimana con la pagina facebook perché praticamente allora spazio nella dance aveva già una sua pagina che contava 7000 like più o meno followers perché comunque un format che avevo iniziato tanti anni fa con un'organizzazione della liguria questa organizzazione ultimamente negli ultimi tempi aveva iniziato a lasciare un po correre quindi non non dava più importanza alle pubbliche relazioni alla qualità dell'audio insomma venivo costantemente presa in giro e costantemente non venivano ascoltate le mie indicazioni quindi lo scorso agosto giusto per farvela breve raccontarvi cosa è successo abbiamo deciso di rilevare noi il marchio lo abbiamo depositato e adesso stiamo cercando di dare una nuova vita a questo format che comunque era già partito molto bene e di gestirlo noi direttamente in maniera tale da poter avere tutto sotto controllo soprattutto per la qualità perché noi ci teniamo molto a dare un prodotto di qualità non solo di quantità ma di qualità cosa che non stava più avvenendo con l'altra organizzazione solo che l'altra organizzazione che si occupava delle pubbliche relazioni della pubblicità eccetera eccetera aveva in gestione la pagina facebook che non ci ha mai voluto dare in buona sostanza quindi cosa hanno fatto hanno pensato di cambiare semplicemente il nome di farla diventare da spazio nella dance un'altra cosa imbrogliando ovviamente tutte le persone che avevano messo like per a spazio nella dance perché ovviamente si trovano ad avere il like su una pagina che in realtà non avevano messo comunque per quello che conta facebook abbiamo deciso di aprire una nuova pagina soltanto che dopo due giorni dalla creazione due o tre giorni che aveva raggiunto più o meno 300-400 like facebook ha deciso di farcela sparire senza nessuna notifica era semplicemente sparita nel nulla abbiamo fatto un po' di segnalazioni è tornata attiva però ci avevano tolto 300 like e molti dei ragazzi che mi seguono mi hanno detto ah io avevo messo like mi è stato tolto non capisco perché eccetera eccetera quindi insomma abbiamo smenato un po' non che ci freghi più di tanto facebook però ovviamente fa sempre parte della nostra storia quindi è un percorso che abbiamo fatto e che ci scoccia un po' perderlo così però purtroppo non possiamo fare altrimenti quindi se vi va magari cercate su facebook a spazio nella dance metteteci un like così di supporto per questa triste avventura bene noi stiamo in viaggio siamo in direzione discoteca colibri dove stasera suono sono molto contenta di essere lì avevo già suonato due anni fa anzi magari vi lascio qua nell'info box il link per andarvi a vedere lo scorso dance life roba che neanche a darsi appuntamento ad un'ora specifica 23 ci troviamo nello stesso momento al parcheggio esatto mi ha regalato una cacca di una cacca di cioccolata questo grande cacca di cioccolata la notte dei desideri aspetta dobbiamo recuperare anche l'ucanji allora siamo all'interno di una festa abusiva per il compleanno di perché sta piovendo e quindi siamo nella macchina della Saretti e stiamo festeggiando Emanuele questa è la testa di Carlo siamo in sei sulla sua macchina e abbiamo fatto questa cioè ha organizzato perché la Saretti è quella che organizza la festa abusiva per il compleanno di Lele Lele quanti anni compi? Lele lele quanti anni compi? 28 no 23 hai detto una volta allora chi siamo? qua c'è la Saretti che è ovviamente l'organizzatrice principale della festa poi ci sono io questa è la testa di Carletto ciao pensavo già che fosse l'alcol che fosse io ce l'ho io l'alcol siamo troppo stretti per le bottiglie di coda poi c'è Lucanji ce l'ho io l'alcol poi abbiamo un infiltrato ciao Enrico ciao Enrico e poi c'è il festeggiato invece al volante che ovviamente ecco è lui il festeggiato e niente adesso festeggiamo qua la Saretti ha portato i cini i cini e niente basta allora perché Carletto appena ha fatto un incastramento strano con la macchina cioè tipo siccome ha la macchina nuova si può dire ormai ormai mettiamo nei sondaggi domani indovinate che macchina ho ok metteremo nei sondaggi visto che li perdo tutti questo ho vinto giusto praticamente appena ho fatto una cavolata perché la spenta quando era in E e si è bloccata la spenta quando era in D va spenta in D va spenta in D quindi la spenta quando non doveva e si è bloccata adesso siamo qua in mezzo alla neve e no è ripartita comunque siamo molto allora abbiamo fatto una serata io mi sono divertito la cifra e io adoro quella discoteca perché secondo me è bellissima a cominciare dal logo che mi piace un sacco una volta a sinistra prendi via porta rossa il navigatore ed è bellissima a me piace proprio tanto esteticamente quel locale lì mi sono divertita una cifra abbiamo ballato un sacco ma soprattutto ultimamente le cose nuove non le sta più calcolando nessuno invece è tipo art style tecno roba pesantissima la straballano da la rotonda sì sto suonando parecchio we have to hide on dead in covers serenade each other with careless melodies something very deep inside us the major and the minor we like piano keys you played for me you played for me oh 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 oh